La situazione in Sardegna dei penitenziari è gravissima, troppe aggressioni, troppe difficoltà. Basta vedere anche i giorni scorsi a Uta quello che è successo. Non è possibile, ci vogliono inasprimenti delle sanzioni, perché il detenuto deve sapere che non può permettersi di aggredire il personale. L'ultima aggressione qualche giorno fa nel carcere di Uta con un ispettore di polizia penitenziaria aggredito con un pugno da un detenuto psichiatrico. La situazione esplosiva denunciata dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria riguarda tutti gli istituti di penna dell'isola ormai al collasso. Il fenomeno emergenziale degli istituti di penna di questo paese è scoppiato da circa 6-7 mesi dove si è maggiormente accentuato. Noi più volte abbiamo segnalato al governo, alla politica, di provvedere ad emettere dei decreti che vadano a defluire le carceri. Tra le criticità non solo le aggressioni. Manca personale, c'è il problema della sanità, perché comunque in Sardegna mancano medici in carcere. Si sta creando il Gio, che è un gruppo interventi operativo, con i vari gruppi interventi rapidi nelle varie carceri, proprio per contrastare il disordine, per contrastare le rivolte.